Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 29 luglio. Ariete, sarebbe opportuno valutare con maggiore freddezza le crisi professionali o di coppia. Non esagerate nel valutare uno sgarbo fatto nei vostri confronti. Sotto questa luna diventate anche un po' pessimisti e tutto sembra essere sbagliato. Toro, il lavoro vi dà qualche preoccupazione in più negli ultimi giorni anche perché le spese sembrano in aumento. Mentre le discussioni hanno tempi lunghi, Mercurio vi aiuterà ad incassare, quindi non fate drammi e godetevi l'amore. Gemelli, la forza vitale che sprigionate in questo momento contribuisce a creare intorno a voi un'atmosfera positiva. Dedicate i prossimi giorni solo all'amore. La luna in bilancia preannuncia nuovi incontri, questa è un'estate da vivere all'insegna della passione. Cancro, siete sempre alla ricerca di qualcosa di stabile e solido, ma non potete pretendere che le persone al vostro fianco vi assecondino senza il minimo dubbio. Del resto, i primi a sospettare di tutto e di tutti siete voi, quindi cercate di essere coerenti. Leone, luna positiva per i rapporti familiari ma che mette un po' di confusione nelle questioni professionali perché siete distratti. Agite con leggerezza. Avete bisogno di staccare la spina e dedicarvi al relax e al divertimento. Accettate un invito. Vergine, siete eccitati dalle conoscenze fatte ultimamente. Avete bisogno di comunicare, di imbastire, nuovi rapporti sociali. Buone occasioni per guadagnare. Se vi capiterà di fare una spesa, non pensateci su due volte. Potete concludere ottimi affari. Bilancia, la luna nel vostro segno vi regala una giornata spensierata. Sentite crescere l'ottimismo e la voglia di rischiare per raggiungere posizioni prestigiose. Anche l'amore sembra rassicurante. È il momento giusto per cementare il rapporto di coppia. Scorpione, in amore dovete cercare di limitare la vostra gelosia patologica. Non potete tormentare il partner con mille domande solo per un semplice sospetto. Sul lavoro meglio rimandare una decisione delicata. Non siete abbastanza freddi. Sagittario, sempre in primo piano con questo Marte che vi mette al centro dell'attenzione. Giornata ottima per le amicizie, ma anche in amore siete fortunati. Sul lavoro però continuate a perdere colpi. Mercurio vi espone a errori di valutazione. Capricorno, nelle storie di vecchia data serpeggerà un po' di malcontento. Forse perché il partner mal sopporta certi vostri scatti d'ira. Prudenza sul lavoro. Mercurio è molto intraprendente. Ma ci sono troppe forze che vi giocano contro in questo momento. Acquario, in amore riuscite a recuperare finalmente la serenità di cui avete bisogno grazie ad una situazione tornata stimolante all'interno della coppia. Venere è formidabile per i single e per le giovani coppie intenzionate a formare una famiglia. Pesci, sul lavoro avete troppi dubbi e non riuscite mai a prendere la decisione giusta. Anzi, spesso agite con troppa precipitazione. Va molto meglio in amore. Manca sempre il romanticismo che piace a voi. Ma siete molto ricercati e corteggiati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna. Le stelle di Azus Le stelle di Azus